Bisogna avere fiducia nelle possibilità della nostra regione, anche alla luce del grande piano nazionale presentato dal ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda. Lo dichiara il consigliere regionale del Partito Democratico, Vincenzo Robortella, a margine dell'incontro dedicato alle prospettive di crescita della Basilicata, nell'ottica del piano nazionale Industria 4.0. Per Robortella, banda ultralarga, digitalizzazione e integrazione dei servizi sono i segmenti su cui intervenire. La sfida attuale per le nostre aziende è puntare sull'innovazione tecnologica, strumento essenziale per crescere ed essere competitivi. L'obiettivo del governo regionale, conclude Robortella, è fornire gli strumenti perché le imprese lucane nascano e si consolidino sui mercati, anche grazie all'attenzione che il governo nazionale ha dichiarato di porre per tutto il mezzogiorno. Grazie a tutti.